Ciao ragazzi come state? Io sono Panino Assistant. L'assistente di Panino alla Spina. Come ho detto in video passati, in questi giorni mi occuperò io nella creazione dei video poiché Panino alla Spina ha dei problemi. Comunque, in questi giorni in Italia c'è area di elezioni e politica. Dopo molto tempo si ritorna a votare e molti partiti si sono messi a fare propaganda per avere un proprio voto. Dunque ho deciso di candidarmi anche io alle elezioni e diventare anche io un politico. Se volete votarmi, lasciate un bel like. Adesso vi mostro il mio programma elettorale. Innanzitutto con me non dovrete più pagare le tasse, infatti esse saranno pagate dai tassi, quei simpatici animaletti. Dal momento che loro non hanno mai pagato nulla, è giusto che anche loro inizino a sborsare. Eliminerò i climi troppo freddi e troppo caldi ma ognuno potrà personalizzare il proprio clima. Vuoi avere una giornata estiva nel mese di gennaio? Oppure una bella giornata invernale per fare il pupazzo di neve ad agosto? Benissimo, con me tutto ciò sarà possibile. Risolverò il problema del traffico nelle strade mettendo una corsia apposita per tutti quelli che vanno a 30 all'ora anche in autostrada. E infine tutti avranno diritto ad avere almeno un panino per pranzo e un altro per cena. Dunque cosa aspettate? Votatemi e sarete tutti delle grande persone. Insieme faremo un bel paese da spalmare sul pane. Così potremo farci la foto e condividerla con gli amici. Voi cosa avreste proposto come programma? Fatelo sapere con un bel commento. Ci vediamo o ascoltiamo in un prossimo video. Vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti! Ciao a tutti!